siamo tornati qua su telastofas e andiamo avanti un po nella storia a vedere che cosa ci racconta e che cosa dobbiamo fare tra un po è natale non so se lo caricherò vigilia o per natale questo video buon natale a tutti e vediamo ok dove dobbiamo andare a portare mettere in salo questo ragazzo cos'è successo sono buoni se non ci togliamo dalla strada succederà anche a noi ma che piastino delle luci trovate ok qua è chiuso qua ok qua ragazzina dai che erano muoviti ok 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 dai dai, permette che ci scoprono dove stiamo andando? lassù, così arriveremo al tunnel nord come facciamo a salirci? dammi un minuto eee scusami madonna che vuole? che vuole? che vuole messia? forte ragazzina com'è che ti chiami? eh, con calma si a volte ma hai fatto uscire una ragazzina? no è la prima volta allora, cos'è Marlene? non so è un'amica credo un'amica eh? sei amica del capo delle luci eh, non posso neanche correre qua conoscevo mia mamma e... si è presa cura di me e ho 14 anni non che c'entri qualcosa e i tuoi genitori? dove sono tutti i genitori? se ne sono andati tanto tempo fa così invece di restare a scuola hai deciso di scappare e unirti alle luci giusto? senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare se è ciò che vuoi sapere sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? che non devo sapere il perché la verità non mi frega niente di quello che vuoi fare ottimo bene c'è ancora spero di andare nella direzione giusta sì ok, è arrivato guardaci qui ah, fu il crozzai non vai a dormire che stai facendo? ma ammazzo il tempo ah, e io cosa dovrei fare? sono certo che qualcosa ti inventerei grazie si sa che è rotto di tutto ho passato il volume perché sennò mi danno il copyright sulla musica che c'è nella musica comunque vi ho messo i sottotitoli per capire che cosa si dicono la ragazzina guarda un po' da fuori della finestra e se dice che è stato mai vicino così all'esterno e che è così talmente buio adesso lui adesso lui sta cercando di capire un pochino di più per che cosa vuole no? ok siete sicuri? sì andiamo ok vai non è strano che ci usino per il loro contrabbando marlin voleva farlo da sola non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda ha perso molti uomini non aveva scelto già spero ci sia qualcuno vivo per pagarci troveremo qualcuno no non c'è niente vedi se c'è qualcosa visto di tasse andiamo per vedere se c'è qualcosa no niente ah ah ok non ci ho fatto tutto loro molto bene molto bene e cosa vuoi fare? ah ah no vai vai ci vuoi 3 ok ci vuoi ci vuoi oi chi ci aspetta nel luogo di consegna? ha detto che ci sono luce arrivati qui da un'altra città deve essere importante chi sei tu eh? la figlia di uno che conta, roba così? una cosa così e quanto durerà tutto? se tutto va bene riusciremo a consegnarti entro poche ore Ellie una volta usciti da qui devi seguirci senza allontanarti un po' percorso di pattuglia certo ah molto bene allora poi non c'è nient'altro no da come vedo no allora eh dove dobbiamo andare? molto bene lì siamo venuti ah da quando? molto probabilmente stranamente devo essere sempre il primo è strano il nostro sito è il primo non è vero così un attimo c'è una pattuglia là davanti bene a posto dai su dai piccola attenta ai piedi ok abbiamo messo posto ok questa pioggia non va bene orchia puttana sono fuori finalmente ah è solo un po' d'acqua ah è solo un po' d'acqua ah è solo un po' d'acqua però se corriamo anche facciamo una buona cosa giusta anzi prendo di qua va bene eh qua allora ho finito di parte per il mio sono di qua ehm 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 città 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 ora non è sia il rinotto è non è io certo non fate cazzate forza giratevi in ginocchio scansionali siamo alla base bene le mani sulla tetta Qui è Ramirez, settore 12 Richiedo prelievo per tre vagabondi Ricevuto Chiudi un occhio Possiamo pagarti bene Sta zitto Sono stanco di questa merda Tempo di arrivo? Un paio di minuti Oh, cazzo Pensavo le avremmo solo legati o roba così Oh, merda Guarda Gesù Cristo Dici che Marlin ci ha fregati Ho tirato la musica qua perché sono il copyright Eh, che qua arrivano Via, dai, dai, dai Tu vai, tu vai, tu vai, tu sai Dai, 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 dai Eh Non ci sono due Ah, vedi qua E Speri di andare nella direzione giusta Ah, no, è andato Cazzo, cazzo Però Oh, 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 oh Sono morto Oh, 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 oh ok molto bene temo a far niente mi raccomando devo prendere i suoi mitri elettrici non mi posso andare a prenderla bene ecco non posso prendere niente neanche qua dentro che cosa c'è prendi qualsiasi cosa c'è ah posso fare solo l'ami del coltello e niente altro qua non c'è niente ok andiamo avanti tengo premuto triangolo ok ok se tu possibili e levati ragazzi oh ok io non ho più proiettili ok ok dodo esimare un po' tutti qua oh rischio la vita ma la mente ma la mente ah io ho finito ho finito i colpi ecco 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 se non ci facciamo vedere ecco la dai oh oh ok oh è morto di nuovo ok dai ci fai fuori quello o stiamo qua fino a Natale o stiamo io provo lo fugo di qua allora aspetta salviamo la partita qua ok così almeno si crepiamo di crepiamo di qua ok ok quindi risolviamo per questo video qua